Nel corso dell'anno corrente si sono susseguiti sia all'interno che all'esterno di un noto esercizio pubblico di Castelsardo diversi episodi che in alcune occasioni avevano portato all'emissione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'attività. Gli interventi effettuati sia dalla squadra di pulizia amministrativa che dai militari d'allarma, i quali hanno accertato sia violazioni della normativa in materia di covid che fatti più gravi di rilevanza penale, hanno portato il questore di Sassare all'emissione di un nuovo decreto di chiusura dell'esercizio ai sensi di legge. Visti gli episodi accaduti, non escludendo che si creano ulteriori problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica, il nuovo provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni è stato notificato a legale rappresentante dell'esercizio dai militari d'allarma della compagnia di Valledoria, incaricati in subdelega dalla divisione di pulizia amministrativa della Questura.